Ciao, sono Edoardo Molinari, membro europeo e amico dell'Italia e del golf. Ho due posti favoriti, uno è in Sicilia, è il Golf Golf Golf, dove gioca il Sicilio Open quest'anno. E' proprio dal mare, alcuni fatti sono all'interno del mare e è fantastico. E l'altro è il Golf Asiago, che è totalmente diverso, è in le montagne, è superiore delle Alpe e delle Dolomite, è davvero bello. Io inizio a vicino a Milano, vado a Milano, vado da qui, faccio un po' per le Alpe, gioco alcune delle corse nel nord, e poi vado verso la Florence, dove c'è queste massive ponte, Chianti, buon vino, buon food e alcune buone golf courses. Io inizio a Sicilia, perché il vado è migliore, puoi avere un bacio nel mare, e c'è alcune buone golf courses, alcune buone resorte, e la città è sicuramente migliore in Sicilia. Io inizio a Puglia, in particolare a Borgo Ignazia, in San Domenico, perché la golf course è molto bella, e la città è molto bella, la città è fantastica, l'atmosfera è molto unica, e il risorto e il hotel sono estremamente luxuri, e molto privati, e davvero bello.